Ci troviamo in strada tra i due porti. Qui al ristorante La Vella si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del servizio di navette gratuite apparecchiato da Comune di Pesaro e Adrebus per l'estate 2021. Un luogo non casuale perché appunto il parcheggio di strada tra i due porti sarà uno dei punti di partenza delle cinque linee di navetta. Tre linee confermate, quella dal San Decenzio a Viale Trieste, dal San Decenzio a Sottomento e la linea mare notturna. Una potenziata appunto questa che da strada tra i due porti porterà in Baia Flaminia e una del tutto nuova, quella che dall'area archeologica di Colombarone porterà sul San Bartolo a Castel di Mezza Fiorenzuola. La consideriamo una spinta fondamentale al turismo, al turismo naturalmente estivo, legato alla qualità della flurizione del mare, legata a un messaggio generale sulla sostenibilità all'ambiente. Tutti gli insieme di servizi integrati che danno nella lunga costa pesarese che va da Sottomonte fino a Fiorenzuola sostanzialmente la possibilità di dimenticarsi l'auto un po' più distante e soprattutto quindi non fare neanche giri lunghi e anche inquinanti per cercare il parcheggio. Cinque linee, conferma il potenziamento delle linee conosciute e in particolar modo ci tengo a rimarcare la linea Riviera del San Bartolo, diciamo così, che permetterà a questa linea di parcheggiare sostanzialmente a Colombarone, anche a ridosso del sito archeologico, quindi a volte fare anche un'esperienza integrata con la visita del sito archeologico e da Colombarone poter raggiungere Castel di Mezzo e Fiorenzuola, quindi diciamo senza appesantire il traffico ma godendosi non solo il panorama ma anche in maniera appropriata questi luoghi. Confermate le linee del Sottomonte e Viene Trieste con il parcheggio di scambio al San Decenzio e simbolicamente dove ci troviamo qui oggi alla vela il parcheggio di scambio, l'anno scorso dire il vero poco utilizzato ma abbiamo deciso di insistere, che porta a Baia Flaminia. Crediamo che il modo migliore di spendere bene i soldi sia questa collaborazione con Adria Bus per garantire collegamenti green e collegamenti leggeri e togliere il congestionamento di auto da Baia Flaminia. La navetta fra i due porti quest'anno che collega la Baia Flaminia spero che riesca piano piano a decollare come servizio perché è molto importante alleggerire un po' la Baia Flaminia dal traffico, dalle tante auto che si vanno a incanalare cercando un parcheggio che poi alla fine parcheggio sempre non c'è, per tutti non è possibile trovarlo. Avremo sicuramente un miglioramento della qualità anche della vita la Baia Flaminia, meno traffico, meno rumore, meno smog e quindi è una direzione un pochino più green per cercare di dare un po' di ordine a una zona che in questo momento per la bellezza e per l'attrattività che ha è sotto pressione. Sabato 5 giugno è partita la navetta, la novità della navetta verso il San Bartolo così come sono partite quelle da San Decenzio a Velle Trieste e da San Decenzio a Sottomonte. Per le altre bisognerà aspettare il 12 giugno per quel che riguarda la linea notturna delle mare e il 19 giugno per quella che la strada tra i due porti porterà in Baia Flaminia. In questo contesto della presentazione delle navette c'è stata anche l'occasione di battesimo diciamo così per il nuovo presidente di Adriabus, nominato da alcuni giorni, Lara Ottaviani, attuale presidente AMI S.P.A che tra qualche giorno appunto verrà formalizzata come nuovo presidente di Adriabus. Come azienda del trasporto pubblico locale ovviamente siamo molto contenti di questa collaborazione che c'è con il Comune di Pesaro perché è una collaborazione che mira a raggiungere gli obiettivi della mobilità sostenibile ovviamente al rispetto dell'ambiente e si parte con quella che è un'azione che è a favore anche di quelli che sono i cittadini che possono così usufruire di un servizio importante per raggiungere i luoghi di relax, i luoghi belli del nostro territorio e anche ovviamente appunto un rispetto per il nostro territorio che è sempre al primo posto anche nella mission dell'azienda stessa.